Ciao a tutti, nuovo appuntamento con il Semina Libro oggi vi parlo di un libro che ho letto per la prima volta tanti anni fa e che ho ripreso recentemente perché mi è tornato in mente e quindi l'ho riletto, è questo qui Il fucile da caccia, diciamo un piccolo classico scritto da Inoue, chiedo sempre scusa per la pronuncia, Yasushi, giapponese Il fucile da caccia è il primo romanzo di questo autore autore che poi è diventato famoso anche per altri scritti e tra questi c'è Morte di un maestro del tè, molto famoso questo però per me rimane rimasto nella memoria perché mi viene a definirlo un piccolo gioiello, è perfetto sono cento pagine con un equilibrio, una perfezione veramente giapponese la trama, l'inarrante del romanzo è un poeta che un giorno deve scrivere una poesia, uno scritto per una rivista che tratta di caccia, cosa per lui assolutamente estranea però gli viene in mente quando un giorno ha visto un cacciatore con il suo fucile in spalle e quindi su questa immagine, su questo ricordo costruisce la poesia che invia a questa rivista dopo un po' di tempo riceve una lettera da un fantomatico signore che dice di essersi riconosciuto in quella poesia e quindi ringrazia l'autore per essersi ispirato a lui da qui scaturisce poi tutto quello che è proprio l'inizio del breve romanzo scaturisce poi tutta la storia ovvero questa persona che si è riconosciuta nella poesia invia all'autore, al poeta, tre lettere che lui ha ricevuto per raccontargli un po' la sua storia e in queste tre lettere noi scopriamo la storia di un amore di un amore molto forte e tormentato tra l'autore appunto, o meglio tra la persona che si è riconosciuta nella poesia, quindi Yosuke che scrive al poeta e sua cognata Saiko un amore che loro hanno tenuto nascosto per 13 anni nascosto alla figlia di Saiko nascosto alla moglie di Yosuke, quindi a Midori ma che all'improvviso scopriranno, capiranno e che in realtà non era così nascosto come lo capiranno? lo capiranno attraverso queste tre lettere cioè le tre donne della vita di Yosuke quindi Saiko, appunto la sua amante, sua cognata la moglie e la figlia di Saiko scrivono a lui tre lettere il romanzo è solo composto da questo dalle tre lettere delle tre donne però vi assicuro che leggendo queste tre lettere entriamo nella storia e siamo veramente come dire, dentro questo amore questo amore che è legato Yosuke e Saiko e che loro hanno provato a tenere nascosto si sono amati moltissimo ma non voglio dirvi perché alla fine questo amore è stato in qualche modo scoperto si scopre che addirittura la moglie di Yosuke sapeva tutto da moltissimi anni e tutto questo esce attraverso le parole delle lettere di queste tre donne delle tre donne della vita di Yosuke non voglio veramente dilungarmi non voglio raccontarvi troppo perché ve l'ho detto questo è veramente un libro al quale ci si affeziona è un libro che io ho riletto con veramente tanto tanto piacere ve lo consiglio ve lo consiglio assolutamente quindi non voglio dilungarmi in altre parole per raccontarlo perché al solito bisogna leggerlo e se non mi avessi ancora convinto a seguire ci sono le parole lette dalla sempre brava Stefania Blandeburgo le parole dell'ultima lettera quella di Saiko dell'amante di Yosuke in cui lei affronta quello che poi è un po' il tema di questo piccolo grande romanzo e anche della sua vita di donna e di donna amata e amante Il fucile da caccia edito da Delphi Inoue Yasushi tradotto da Giorgia Mitrano buona lettura a tutti Amare essere amato come sono tristi le azioni umane quando ero al secondo o al terzo anno del liceo femminile durante un esame d'inglese vennero fuori alcune domande sulla forma attiva e passiva dei verbi colpire essere colpito guardare essere guardato mischiati fra tanti verbi come questi ce n'erano due che emanavano una luce speciale amare essere amato mentre guardavamo con attenzione le domande leccando le matite a un certo punto da dietro le spalle mi arrivò un bigliettino che qualcuno aveva fatto girare per gioco guardai c'erano scritte due domande vuoi amare? vuoi essere amata? e sotto la frase vuoi essere amata scritti con l'inchiostro o con la matita blu e rossa c'erano molti cerchietti mentre nella colonna del vuoi amare non c'era nemmeno il più piccolo segno di adesione anch'io non fece eccezione e aggiunsi il mio cerchietto sotto vuoi essere amata perfino le ragazze di 16-17 anni che capiscono ben poco di cosa quelle parole amare essere amato possano significare intuiscono già per istinto che la felicità sta nel fatto di essere amate solo la ragazza seduta accanto a me quando le passai il biglietto vi diede una rapida occhiata e subito a colpo sicuro con un deciso tratto di matita tracciò un grande cerchio nella colonna bianca ignorata da tutte le altre lei voleva amare ricordo ancora chiaramente che provai allo stesso tempo antipatia per quella compagna priva di mezze misure e disorientamento per essere stata colta di sorpresa la ragazza era un tipo insignificante dall'aria malinconica e i suoi voti non erano neanche particolarmente alti non ho idea di come sarà diventata da grande quella ragazza dai capelli un po' rossastri sempre sola ma chissà perché dopo più di vent'anni mentre scrivo questa lettera i lineamenti del suo viso mi tornano chiari alla mente quando giunte alla fine della loro vita serenamente distese volgeranno il viso al muro della morte tra la donna che ha goduto appieno della felicità di essere amata e la donna che può dire di avere avuto poche gioie ma di avere amato a quale delle due Dio vorrà concedere il tranquillo riposo ed esiste in questo mondo una donna che possa dire davanti a Dio io ho amato sì sono sicura che esiste forse la ragazza dai capelli sottili crescendo è diventata una di quelle poche elette avrà magari i capelli in disordine il corpo segnato dalle ferite gli abiti a brandelli ma potrà dire a testa alta con fierezza io ho amato ed esalare l'ultimo respiro ah basta vorrei fuggire ma per quanto tenti di scacciarlo via il viso di quella ragazza mi perseguita e non riesco in nessun modo a liberarmene perché quest'ansia è insostenibile a poche ore dalla mia morte la punizione naturalmente riservata a una donna che non ha sopportato la sofferenza di amare e ha cercato la felicità di essere amata sta finalmente arrivando ciao grazie a tutti